Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Qualcuno me l'aveva chiesto in tempi non troppo remoti e sicuramente è un gioco in cui ci avevo veramente gettato l'occhio sopra da quando ne sono venuto a conoscenza. Oggi vi parlo di Rising Sun, un gioco dell'Akmon, edizione italiana a cura di Asmode Italia. Questo è il secondo gioco che ci ha offerto il nostro sponsor, Board Game Discount, che vedete sempre in sovrimpressione. Primo link in descrizione, tanto poi ve ne parlerò nel corso del video e soprattutto alla fine. E quindi ringrazio di cuore da morire Board Game Discount, grazie per queste possibilità concessaci, e soprattutto per averci fornito una copia di Rising Sun, che ve lo premetto subito ma il voto sempre alla fine, è un gioco ragazzi spettacolare. Ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Rising Sun è un gioco ambientato nel periodo feudale giapponese, da 3 a 5 giocatori, età dai 14 anni in su e della durata media di 100-120 minuti. Non è lunghissimo come gioco, vi dico la verità. E se ha un malus, però come sempre il voto lo do alla fine, è che questo difficilmente lo potete fare in due giocatori. Secondo me, un po' sforzatamente, si riesce anche a fare una modalità a due giocatori. Però questo è un gioco da 3 in poi, anche perché c'è un discorso alleanze. E le alleanze, ovviamente, possono essere fatte a massimo fra due clan. Ed è una regola essenziale, perché la partita la potete vincere da soli, o la potete vincere anche a pari merito di punti con i vostri alleati. Quindi i clan che possono vincere sono due. E sarebbe quasi impossibile giocare in due, se vi alleate è finito il gioco, non ci sono battaglie. Ma soprattutto, non ci avrebbe tutto quello spessore di battaglie che viene poi fuori tra di menti pugnalate, perché giocarlo in due è un po' difficile. Forse dovreste togliere la regola delle alleanze, ma andrebbe a perdere, secondo me, il 50% del gusto di questo gioco. E tutta quanta la fase politica. È un gioco ovviamente ambientato nel periodo feudale giapponese, classico periodo dove si videro spadaccini come Sasaki Kojiro o anche Miyamoto Musashi. Ed è un gioco molto bello, perché voi avrete tutta quanta la mappa del Giappone e vi dovete spostare di territorio in territorio con le vostre truppe che comprenderanno sempre Daimyo, ovviamente il capo, la figura più importante del clan, Samurai, che sono le truppe sul campo, e poi Lishinto. Lishinto sono quei monaci guerrieri che facevano la strada per andare fino nei tempi sulle montagne per appunto venerare gli dei Shintoisti dell'epoca che erano Amaterasu, la dea del sole, poi c'era Susanoo che era il dio, se non erro, delle tempeste, e anche il dio della luna, marito appunto, consorti di Amaterasu, Raijin, il dio del fulmine e tutti gli altri. Quindi ha una parte bella spirituale, però ovviamente è un gioco fantasy. Siete nel Giappone feudale e reale dell'epoca, non siete nel Rokugan delle leggende dei Cinque Anelli, però anche qui ci sono demoni, ci sono divinità, ci sono catastrofi e cose varie, e ovviamente per quanto non sia un iFantasy, comunque il suo contenuto fantasy ce l'ha. Vi faccio vedere un pochino come funziona, ma al solito vi do un'infarinatura perché tutorial non ne voglio più fare sul canale, però prima di tutto, per la componentistica che c'è dentro, da sentirsi male, unboxing. Confezione del gioco, vedete, edizione italiana a cura di Asmode, gioco dell'Akmon, ragazzi vedete la scatola. Cosa c'è dentro? Un samurai tagliato a pezzi, un'armatura di un samurai. È non soltanto grande, ma è anche spessa, è bella larga, ed è piena zeppa a scoppia di contenuti, e il disegno che c'è sopra, c'è un'opera d'arte, forse per me ci farei un poster, veramente. Bellissimo. Apriamo. Il manuale di gioco, fatta a striscetta larga, anche qui è il classico manuale che piace a me perché regola, esempio col disegno, regola, esempio col disegno, ed è molto facile, alla fin fine le regole, togliendo queste pagine, leggermente più avanti, togliendo queste pagine qua, che vi fanno vedere le carte, come sono e come funzionano, quindi, semplicemente per darvi, appunto, le idee più chiare su come funzionano le carte, delle tattiche che potete mettere in campo, io penso che il manuale abbia tipo 10-11 pagine di regole, quindi è veramente veloce, qui vedete tutta la parte dei kami, bellissimo, anche i disegni sono veramente spettacolari. I token per l'onore, e per altre cose, in 3D, in plastica, con i vari colori dei clan, il mazzone di carte, dove all'interno ci sono tutte quante le carte tattica, che potete utilizzare, nelle varie fasi di gioco, un po' di miniature, guardate ragazzi il dettaglio, ma è inutile che ve lo dico, ve ne ho presentati, io penso, una ventina ormai, se non di più i giochi dell'Akmon, guardate, il dettaglio che hanno per le miniature, sono sempre qualcosa di spettacolare, belle 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 da morire. Tutti quanti i mostri che ci sono dentro, ragazzi guardate quanto sono grandi, veramente queste miniature qui, addirittura c'è anche il classico drago, questi sono tutti i mostri, che potete arruolare per il vostro esercito, e li potete usare come truppe, ovviamente sono fortissimi, guardate questo drago ragazzi, com'è il dettaglio, anche questi, sono roba che proprio, te li strappano dalle mani, pennelli, colori, ti viene una voglia di colorarli, roba disumana. E poi dentro ci sono tutte quante, le loro basettone, colorate, per metterceli, e tutte quante le monete, i soldi che si possono utilizzare, all'interno del gioco. I clan, che sono tutti prettamente differenti l'uno dall'altro, per quanto poi alla fin fine, la forza delle truppe è sempre la stessa, valgono uno, e ci hanno sempre il daimyo, i samurai e l'ishinto. Questi qui sono i clan, che sono all'interno del gioco, e questo qui è il classico shinto, un pochino più classico, lo vedete quello con il daisho, le spade, il flautino, e l'elmo tipo cestino in testa, che fa il viaggio per andare appunto, a mettersi in comunione con i kami, sono veramente spettacolari. Tabellone di gioco, e poi di qua ci sono gli schermetti dei clan, perché in questo gioco si gioca, tra molte virgolette, a carte coperte, e poi tutti quanti i token, e le altre cose, che servono appunto per fare il setup iniziale. Vi faccio vedere un pochino come funziona, e vi do una prima idea. Ragazzi, tutta la mappa di gioco, è impossibile farvela vedere, perché veramente è grande, quanto tutto quanto il tavolo, e sicché non ce la facciamo, anche col telefonino, e col poco zoom che ci abbiamo. Comunque, questo qui è lo schermetto, di una delle fazioni, in questo caso qui del clan del loto, che è quello che a me personalmente piace di più, anche come stile, sono quelli forse più giapponesi dell'epoca, quelli shinto, e vedete che qua dietro ci sono scritte tutte quante le caratteristiche, ci sono scritti i soldi che guadagnano a fine turno, che poi i soldi sono queste monete qua su in cima, e soprattutto il loro onore iniziale per delle cose, per un setup particolare, e delle regole appunto, che ora vi faccio vedere. La cosa importante è che all'inizio, loro partano dalla provincia, di origine di Nagato, quindi questo qui, questo schermo, lo dovete sempre tenere dalla vostra parte, perché dietro ci dovete nascondere, soldi che avete, le carte che utilizzate e tutto il resto, devono essere cose segrete, in più ci avete un sunto delle regole di gioco. In più, ciascun giocatore prende uno schermettino da utilizzare come vantaggio di guerra, nella fase di guerra, che vi faccio vedere dopo, e girandolo dall'altra parte, invece, mandati politici, che questo gioco si sviluppa prima, con la cerimonia del tè, ci sono i mandati politici, e successivamente, arrivando nell'ultima fase, in verna parte, c'è la stagione delle battaglie. Nella stagione di partenza del clan, ci dovete sempre mettere il daimyo, quindi il capo supremo di quel clan, voglio vedere dipinte, ci dovete mettere un bushi, un combattente, che il clan del loto sono tipo ninja, comunque, shinobi e cose del genere, e la fortezza, ne avete più di una, che qua giù, vedete, ci sono anche le riserve, perché potete andare a costruire, a conquistare territori, mettendoci le vostre fortezze, comunque, quella di partenza è nel vostro territorio, che in questo caso è inagato, e poi, ci avete tutte quante le vostre riserve, qua giù in fondo, che le potete utilizzare, quando metterete in campo, nove truppe, e questi sono gli shinto, che al fine del combattimento, sono come bushi, contano come forza 1, però gli shinto, li potete mandare, qua su nella fase dei kami, che vi faccio vedere a breve. Qua su in cima, vedete, le province in guerra, divise nelle tre fasi del gioco, perché poi il gioco sono tre turni, perché dovete giocare, come vedete qui dalle carte, primavera, con tutte le carte della primavera, estate, con tutte le carte dell'estate, autunno, e poi arriva la fase dell'inverno, dove finisce la partita, quindi, province in guerra, fase 1, fase 2, fase 3, e i mandati politici, quindi, non le dovete mettere qui, è sempre da una parte del campo, ma ripeto ragazzi, per spazio, se no non ce la faccio, queste sono le cose, che dovete mettere, al lato del tavolo, e qua giù invece, pescandoli, dal mazzo, dei kami, che sono questi qua, girati a faccia in giù, che non si vedono, dovete prenderli, casualmente, e metterli qua su, affinché ci siano, da sinistra a destra, quattro kami, ogni kami, dà un effetto particolare, che è quello, c'è scritto sulle regole del manuale, quindi, quando nella fase di kami, manderete uno dei vostri shinto, a pregare una divinità, dovrete scegliere quale, perché tutte e quattro, non le potete pregare, ovviamente, quella dove andrete, vi darà vantaggi, completamente differenti, rispetto ad altre, queste qui sono le province in guerra, che dove le faccio vedere, nel setup, e indicatore dell'onore, diviso, con i colori dei clan, quindi il clan del loto, che sono loro, di colore rosa, hanno un valore iniziale, di onore, che c'è scritto, dietro al loro schermo, di 3, all'inizio della partita, ovviamente, chi ha più onore, va in alto, però nel setup iniziale, no, vanno in alto, chi ha meno onore, e qui, i clan con più onore, perché ovviamente, sono avvantaggiati, vanno in basso, comunque, in questo gioco, qualsiasi regola, che vi dirà mai, durante la partita, guadagnate uno di onore, o ne perdete uno, semplicemente switchate, la vostra posizione, se il clan del loto, guadagna uno di onore, rimani qui, non fa nulla, perché tanto è, più su di qui, non si potrebbe arrivare, però nel caso, perdesse uno di onore, semplicemente, mandate questo giù, e l'altro clan, che era sotto di voi, che è il clan della tartaruga, va al vostro posto, quando perderà, un altro punto onore, manderà su quello che c'è dietro, quando guadagnerà un punto onore, manderà automaticamente, sotto di lui quell'altro, quindi, il clan che ha più onore, l'onore in questo gioco, serve sempre per gli spareggi, quando c'è da fare uno spareggio, volete conquistare il nagato, ci sono sia truppe vostre, che di un vostro nemico, quindi, di un altro clan, territorio conteso, quanto abbiamo di forza, facciamo conto, che non c'è la fortezza, loro hanno, contano 1 e 1, 2 di forza, almeno che non ci mettano demoni, oni e cose del genere, perché li potete avere, noi quanto abbiamo di forza, 2, 2 truppe contro 2, c'è da fare uno spareggio, vince lo spareggio, il clan che ha più onore, quindi in questo caso qui, visto che il clan giallo, è sotto, il clan rosa, quello del loto, che stiamo utilizzando, è più alto l'onore, e avrà vinto la battaglia, non è solo questa la fase di guerra, è molto più complicata, comunque, serve anche per decidere, chi vince gli spareggi, facciamo conto, che questa è una partita, 3 giocatori, in una partita, 3 giocatori, si dovranno mettere, 5 province in guerra, sono sempre il numero attuale, più 2, quindi una partita, 5 giocatori, metterà in campo, 7 province, se ne posso mettere anche fino a 8, come vi ricordate, nella prima fase, questa qui, con il numerino 1, andate a mescolarle, e ne prendete casualmente 5, per andarle a disporre qui sopra, queste sono le province in guerra, che sono Kyushu, Shikoku, Kansai, Nagato, e Kyoto, e con i numeretti, che ci sono accanto, le dovete andare a mettere qui, vedete, ogni provincia, che andate a conquistare, o comunque a dominare, ha sempre queste due caselle, il primo vuol dire il guadagno, quando la conquistate, avete la supremazia, in questo caso monete, vi potrebbero dare truppe, Ronin come alleati, e quant'altro, in più qui ci va sempre messo, il punteggio, che è qui accanto, quindi nella provincia di Kansai, ci andate a mettere qui, il 3, che sono anche punti, che si possano guadagnare, ovviamente punti vittoria, e in quella di Kyoto, invece, che è quassù, verde, ci andate a mettere, il 5, ah, vedete che ogni zona, è connessa da rotte, via mare, quindi vuol dire, che nel vostro turno, se fate degli spostamenti, una truppa si può spostare, da qui a qui, ovviamente in territori adiacenti, non si potrebbe spostare, da qui a qui, visto che c'è il mare nel mezzo, prendere navigazione, andare fin qua, quindi le rotte commerciali, le rotte via mare, vi possono anche consentire, di spostarvi per tutto il Giappone, con una sola mossa, questa si chiama, preparazione stagionale, poi il gioco si sviluppa, in altre 4 fasi, che sono la cerimonia del tè, la fase di politica, la fase di guerra, e poi il ripristino stagionale, nella fase principale, della cerimonia del tè, si parte ovviamente, dalla stagione in atto, quindi in questo caso qui, la prima è la primavera, la prima fase, è quella dei mandati, il giocatore attuale, che ha più onore, ne pesca, questi qui ovviamente, devono essere coperti, quindi i mandati, devono essere dalla parte di qua, pesca i primi 4, quindi non le prende casualmente, i primi 4, li gira, se li guarda segretamente, per quale è il mandato, che vuole mettere in campo, in questo caso qui, magari sceglie il raccolto, e quegli altri, senza mescolarli, li rimette, sulla cima, del mazzo, questa è la prima fase, vedete le fasi, sono scandite da qui, un giocatore, un giocatore, un giocatore, poi c'è una fase di intermezzo, altri due giocatori, una fase di intermezzo, che è la fase dei kami, e poi altri due giocatori, fino a che non si va in fondo, alla fase della guerra, fa vedere tutto quanto il passaggio, il giocatore con più onore, è quello che per primo fa questa cosa, e poi si va per senso orario, il secondo giocatore, sarà quello alla sua sinistra, quello ancora alla sua sinistra, e così via, andando in senso orario, fino a che non si finirà, tutta quanta una stagione, una volta che l'ha pescata, questa carta, questa fase del mandato, viene rivelata, e messa questo in cima, ed è una fase di mandato, raccolto, che sono descritte, tutte quante sul manuale, tutte, quindi, questa fase qui di raccolto, fa delle cose particolari, poi magari, il secondo giocatore, deciderà di mettere un reclutamento, il reclutamento, serve per mettere forza in campo, e così via, fino a che non si arriverà, queste ve le esposto, tanto non servono, sono per gli altri turni, fino a che non si arriverà, averle riempite, tutte e tre, che sono queste qua, e in questa fase, c'è la fase dei kami, la fase dei kami, semplicemente, avete mandato uno scinto, in un territorio dei kami, e avete la supremazia, la supremazia vuol dire che, o siete l'unico, o ci avete un numero più alto, perché ogni scinto consta uno, almeno che non ci abbiate carte, potenzialmente cose varie, quindi se qui siete da soli, con il dio Ryujin, avete vinto, e quindi prenderete il bonus, di quel dio lì, fase dei kami, e poi si riparte, un'altra volta una quina qui, così in fondo, fino alla fase delle battaglie, questa è la fase, diciamo, iniziale, di un setup, e la fase soprattutto, degli eventi che possono capitare, come vi ho fatto vedere qua giù, di quello che succederà, diciamo così, nel Giappone feudale, che voi andrete a costruire, quindi le fasi, saranno organizzate dai giocatori, ovviamente, quando si giocano queste cose, chi l'ha messa in campo, la gioca per ultimo, prima dà la possibilità, a tutti gli altri giocatori, di fare il raccolto, e poi tocca a lui, reclutamento, tutti gli altri, e poi tocca a lui, quello che mettete in campo, vale anche per tutti gli altri, quindi, pensateci un attimino, perché quello che andate, se fate un reclutamento, perché avete bisogno di truppe fresche, andate ovviamente, a darle anche agli altri giocatori, poi, c'è la fase della cerimonia del tè, e la fase della cerimonia del tè, è quella più bella, e più iconica del gioco, perché la cerimonia del tè, era quella fase politica, di relax anche, però comunque politica, in cui si andavano a sancire, alleanze, spartizioni dei territori, e cose varie, anche e soprattutto le sordi, in questa fase qua giù, come vedete, ogni clan ha questa specie di mezzaluna, questa mezzaluna qui, serve per trovare l'alleanza, con un altro clan, e fonderle insieme, quando le due mezzalune, sono a contatto, così vuol dire, che per tutta quella stagione, quindi per la primavera, per l'estate, perché ogni stagione, si spezzano le alleanze, e vanno rifatte, quei due clan sono alleati, e non potranno assolutamente combattersi, ovvio, quando andate a conquistare un territorio, vale sempre la supremazia, del clan che ha più punti, in quel territorio lì, perché comunque anche se, rosa, o comunque viola, e verdi, sono alleati, però rosa alla supremazia, prenderanno loro, il bonus che c'è scritto qua su in cima, non i loro alleati, però non si potranno combattere, uccidere, e saranno alleati, anche nel guadagno, di alcuni punti, per alcune mosse, che si possono fare, ricordatevi, che ci sono anche, delle carte tradimento, che vi consentono, di rompere, le alleanze, perché l'alleanza, può essere mantenuta, però magari al momento giusto, può anche essere rotta, sia chiaro, nessuna regola, vi dice che la potete tradire, anche verbalmente, o come accordi, perché se io ti dico, alleati con me, e se ti allei con me, io ti regalo, dei Ronin, vedete sono questi qua giù, che potete guadagnare, vi regalo, ti regalo dei Ronin, in più, se te vai su Kansai, io non te lo prendo, ti consento, ti do un territorio libero, passando da Nagato, vai fino a Kansai, te lo faccio conquistare, in più ti do 4 monete, se diventi mio alleato, perché mi serve per la guerra, il giocatore potrebbe dirti, va bene, vai ci sto, si prende tutte queste cose, però potete dirgli, ok, queste 4 te le do, però i Ronin me li tengo, oppure ti do i Ronin, e mi tengo i soldi, fino a che non vedo, che ti rispetti la promessa, e lui dice, ok, poi magari questa cosa, non la rispettate, magari gli date i Ronin, e poi i soldi non glieli date, l'unica cosa, è che l'alleanza, non si può rompere, fino a che non esce, una carta tradimento, di quelle che ci sono qua sotto, perché questi sono i mazzi, che potete usare, nelle varie stagioni, fino a che non esce, un tradimento, voi proprio di regolamento, non la potete rompere, e comunque combatterete, come clan alleato, sia chiaro, i territori, li conquista un solo clan, però, al fine della partita, se quando finisce la partita, i due clan alleati, nell'ultimo turno, quindi nella fase dell'estate, hanno lo stesso livello di punteggio, magari 21, e 20 l'altro, avete vinto tutte e due la partita, ed è anche per questo, che vi dicevo, che sarebbe quasi impossibile, fare una partita a due, perché, s'alleando clan, fine del gioco, quindi questa è la fase politica, delle promesse, che secondo me, è la cosa più figa, in assoluto, che c'è, in questo gioco, s'arriva invece, nella fase di guerra, quando tutte queste qua, le metto a caso, completamente casualmente, quando tutte queste qua, sono state riempite, quindi, vedete, eccolo qua, tradimento, quindi avete fatto, che ne so, raccolto, reclutamento, fase dei cami, fase dei cami, fase dei cami, ancora che sono queste qua su, le avete finite, s'arriva nella fase della guerra, la fase della guerra, è decisa, da come avete pescato, le carte territorio in guerra, quindi tutti quanti, quei territori lì, andranno in guerra, che ne so, il primo, partendo da qui, è Kyushu, quindi la prima battaglia, verrà combattuta, a Kyushu, che è un pochino più là, ve ne faccio vedere una più vicino, poi dopo veniva Shikoku, e poi successivamente, veniva Kansai, che Kansai, è questa qua giù, ora, facciamo conto, che anche qui, eravamo alla pari, come Bush, insomma, come combattenti, e un altro clan, in pari merito, se ci serveva lo stesso punteggio, chi vinceva la partita, se non c'è fortezza né nulla, si andava sempre a vedere, il livello di onore, se quei due clan fossero stati alleati, non avrebbero potuto darsi battaglia, a meno che uno dei due, non avesse tradito, precedentemente, qui ad esempio, vi fa presente, che se andate a conquistare Kansai, prendete tutti i punti che ci sono, e questi qui, sono i punti vittoria, in più, c'è anche la possibilità, che è la cosa più importante, di guadagnare punti onore, guadagnare anche Ronin alleati, soldi, che i soldi, vengono utilizzati, soprattutto, nella fase politica, ma anche nella fase di guerra, perché, sono quelli che vanno un po' a sostituire, Dado, quando prendete questa tabellina qui, questa tabella, vi fa vedere, le azioni che potete fare, vedete no, e poi c'è l'esito della battaglia, queste sono le azioni, che potete fare, dove ci potete spendere, fino a tutte le monete che avete, magari, nel rendiconto, di quel clan, lui ha, in quel turno lì, 6 monete da spendere, almeno che non abbia già conquistato territorio, non abbia guadagnate di più, comunque, mettiamo caso, il clan del loto, abbia queste monete qui, e può scegliere, queste azioni da fare, che sono descritte qui, ad esempio, il seppuku, ti consente di guadagnare punti vittoria, senza perdere onore, però tutte quante le tue truppe, sul campo, si suicidano, muoiono tutte, il daimio non può morire, ovviamente, nemmeno la fortezza, però per il resto, muoiono tutti, hai perso la battaglia, hai lasciato il territorio al tuo nemico, ma hai guadagnato comunque punti vittoria, e non hai perso il tuo onore, quindi, semplicemente cosa si fa? Stando con questa faccia qui, nascosta, dietro, ovviamente, il vostro schermetto, voi andate a puntarci sopra tante monete per quella che volete vincere, magari io dico, oh, io voglio vincere il seppuku, ce ne punto, quattro, il vostro avversario non deve sapere quante monete avete, quindi gli dovete dire, sì, ce ne ho sei, però non deve sapere dove le state giocando, alla fine, quando tutte e tre le avete giocate, levate gli schermi, rivelate, e magari andate a vedere, che se voi ce ne avete messe quattro sul seppuku, e il vostro avversario ce ne ha messe cinque, ha vinto lui, se voi ce ne avete messe quattro, e lui ce ne ha messe quattro, andate sempre con lo sparigio di punti onore, e andate a fare quello che c'è scritto sopra, finite tutte quante le fasi della guerra, si rifà un setup, un'altra volta iniziale, si rivanno a pescare anche queste carte quassù, che vanno rimescolate, e vanno ridate in onore, poi in senso orario, si rivanno a ripescare anche i cami, insomma si rifà tutta, l'alleanza si rompe, si rivanno a fare tutti i setup del gioco, dalla A alla Z, si prende i vari rendiconti in monete dei clan, e quindi monete che rientrano, si va a risetappare tutta un'altra volta, e siamo pronti per andare avanti, dopo la terza fase, c'è la fase dell'inverno, che si va a fare la conta dei punti, e il tracciato dei punti, ogni volta che guadagnate punti, ovviamente non si possono perdere, si va avanti, e lo stesso, i vostri avversari. Ragazzi, ci sarebbero ovviamente delle cose in più da spiegare, però il succo del gioco è qui. Se devo dargli un voto, e vi dico la verità, quando l'ho visto sul sito della Cmon, e quando l'ho visto nel Kickstarter, appunto loro, la prima cosa che mi è venuta a mente, ho detto, oddio, sembra proprio un bel gioco, bello, come miniature, come miniature, no, non è bello, è mostruosamente bello, però mi sono detto, avevo quasi paura che fosse il classico gioco bello, come componentistica, ma troppo complicato, troppo, 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 perché, magari sono io, se no, non si chiamerebbero cosa ne penso questi video, e sono pareri, molto per, cerco di essere professionali, più possibile, ma sono anche molto personali, per me un gioco è bello, quando ha poche regole, ma non poche regole, ne può avere anche tante, però deve essere un gioco semplice, che si spiega velocemente, e il flusso di gioco, soprattutto, è molto, molto veloce, perché se no, si rischia di far durare dei giochi 5-6 ore, per delle regole un po' troppo complicate, che girano male, questo invece è un gioco semplicissimo, a livelli veramente assurdi, ed è anche il suo punto forte, perché è il classico gioco che non serve una partita, sì, serve una partita o due, per capire bene, visto che è un gioco logistico, quali sono le migliori mosse da fare, ma basta veramente, mezza partita invece, due turni, per capire le regole, forse se al primo, ci avevi ancora qualche dubbio, al secondo, l'hai fugati completamente, componentistica, veramente da paura, le carte, tutto quanto, i disegni che ci sono, non so, per me che è il bando a morire, ed è molto bello, perché si passa da una prima fase politica, l'importantissima cerimonia del Tè, in cui si fanno alleanze, o magari più avanti si rompono anche le alleanze, con combattimenti, decisi praticamente, dalla fascia delle battaglie, che verranno combattute, nelle tre stagioni, forché l'inverno, perché l'inverno, lo sapete, il Giappone era completamente ricoperto, di neve e ghiaccio, e i passi, anche e soprattutto le strade, i passi montani erano chiusi, quindi l'inverno, non si combatteva, a parte qualche scaramuccia, così fra clan, oppure Varken Ninja, ho mandato lì per lì, a fare qualcosa di sotterfugio, di subdolo, e quindi si, si svolge in queste tre stagioni, in cui c'avete una fase politica, una fase di preghiera, quindi congiunzione con le divinità, con i kami, e poi una fase puramente di battaglia, ed è veramente bello, anche perché non c'è dadi da attirare, non c'è, ecco, componente aleatoria, manca completamente, quindi devi fare bene le tue mosse, tutt'al più, il dado è un po' sostituito dalle monete, dai soldi che puoi usare per, appunto, gli scopi bellici e cose del genere, per corrompere, o per fare alleanza con un altro clan, però alla fine, le forze che c'hai sono quelle, non c'è un dado che ti rovina il tiro, quindi è anche bello per questo, qui più che il tiro di dado, ti fa perdere la partita, averla giocata male, se gli devo dare un voto, da 1 a 10, per me si merita veramente, veramente 10, perché non ci trovo, una singola cosa, si forse avrei potuto, a parte non do più un mezzo ai voti, forse avrei potuto dire 9 e mezzo, perché mi pesa, non poterlo giocare con mia moglie, perché se non c'è una terza persona, non lo puoi giocare, ve l'ho detto, ma no perché l'hanno voluto far brutto, sì e loro apposta, che la potevano fare una modalità a 2, però non gira, cioè col fatto dell'alleanza, ci sa lei e mia moglie, gioco finito, 10 minuti, abbiamo vinto a casa, cioè non faresti niente, però secondo me, è veramente spettacolare, e se riuscite a fare una partita, piena, a 4, fate divertire, lo portate a casa di fissati del Giappone, o poi ragazzi sono anche tatuato, con roba giapponese del teatro Kabuki addosso, quindi se non apprezzo io queste cose, sicuramente sono anche abbastanza di parte, farete veramente innamorare tutta la gente al tavolo, e secondo me ve lo chiederanno molte volte di riportarlo, perché è un gioco veramente spettacolare, quindi 10 su 10, meritatissimo, ringrazio ancora una volta, Board Game Discount, link in sovrimpressione, come lo vedete, e primo link in descrizione, vi ricordo di contattarli sempre, questa è una cosa che nei video scorsi non ho detto, ma ora vi ricorderò anche a voce, se trovate questo gioco qui, andate da loro, non lo trovate, scrivetegli una mail, perché loro hanno la possibilità di farvi avere anche giochi, ovviamente scontati, che non sono in lista, quindi se trovate Rising Sun, eh ma Board Game Discount, ora non ho fatto caso, magari non ce l'ha o non ce l'ha più disponibile, oppure anche un altro gioco che ho trattato, contattateli comunque nella mail, fateli presente che vi mando a Coridan, che vi mando io, faranno il possibile per trovarvi il gioco, in più lo potete pagare in tre rate, senza alcuna forma di finanziamento, quindi non lo volete pagare tutto insieme, lo pagate una rata al mese, per tre mesi, quindi grazie ancora una volta a Board Game Discount, ragazzi, è veramente uno spettacolo, fan del Giappone, fidatevi, non ve lo fate scappare, bellissimo, veramente bellissimo, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento, e alla prossima!